Ci sono parecchi segnali a livello internazionale che fanno pensare a una sostanziale ripresa delle iniziative fieristiche, soprattutto se si punta su settori che hanno successo sui mercati. A Bari la Fiera Elevante ha fatto segnare qualche piccolo segnale di crescita, anche se giunge proprio da Brindisi un segnale estremamente confortante grazie al Salone Nautico di Puglia, che quest'anno occupa ogni spazio disponibile nel porto turistico marina di Brindisi, sia a mare che a terra. Ma il pensiero in questa città ricorre sempre al capannone ex Montecatini e più in generale all'intera area di Santa Polinare. Proprio in quel capannone anni fa si svolse una riuscitissima edizione dello SNIM, mentre durante l'amministrazione Mennitti in quel luogo si svolse l'Assemblea Nazionale del Lanci, l'associazione che raggruppa i comuni d'Italia. Nel 2014 invece vennero a visitarlo i responsabili della Triennale di Milano, che in collaborazione con l'amministrazione dell'epoca, ipotizzarono di realizzare proprio nel capannone l'edizione della Triennale per il Mezzogiorno d'Italia. Nel 2019 poi la CNA ha candidato il capannone per una idea progettuale da inserire nel contratto istituzionale di sviluppo. Il tutto per la creazione di un quartiere fieristico polivalente in cui far svolgere fiere ed eventi di ogni genere. E poi ci sono stati i concerti che hanno ottenuto un grande successo. Adesso però forse è davvero giunto il momento di fare sintesi delle tante proposte formulate nel corso del tempo, anche se la possibilità di far sorgere in quell'area situata al ridosso della città un vero quartiere fieristico rappresenterebbe una svolta per Brindisi, perché determinerebbe ulteriori occasioni di sviluppo legate anche a una posizione geografica che ci colloca al centro di scenari internazionali.